Benvenuti in corso Giovanni Pascoli numero 22. Esattamente dove una volta c'era la banca intesa San Paolo. Molti di voi conosceranno questa posizione, ideale per chi lavora dentro la città o fuori dalla città. Un appartamento estremamente giovanile, con i suoi due reti del bagno, e a completare una autodimessa estremamente spaziosa e utile. Buona visione e a presto. Contattaci per avere maggiori informazioni. Contattaci per avere maggiori informazioni. Contattaci per avere maggiori informazioni. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti